Nel filmato precedente abbiamo visto come impostare un progetto in surround, ora invece analizziamo questo semplice esempio di sonorizzazione surround per il quale ho impiegato sia clip in 5 più 1 che stereo. Vediamo prima di tutto il filmato con l'audio originale della videocamera. Grazie per la visione. Ed ora lo riguardiamo con l'audio creato in post-produzione realizzato con le clip audio della libreria a corredo. Grazie. Grazie. Come avete sentito è tutta un'altra cosa. Iniziamo l'analisi. La prima clip che ascoltiamo in solo è questa, è l'audio di un fiume in formato 5 più 1. Questa clip l'ho tenuta come base su tutto il montaggio. A partire dalla terza clip video in cui abbiamo un'inquadratura più prossima all'acqua ho fatto partire un'altra clip surround perché la prossimità fosse anche accompagnata dal sonoro. sentiamo. Su questa prima porzione di clip ho però attivato un equalizzatore, che ho usato per eliminare le frequenze basse. Sentite come sarebbe senza equalizzatore. Troppo impetuoso. Con il filtro invece è più realistico. Ok, andando avanti troviamo di nuovo un cambio di inquadratura. Qui la camera è molto vicina all'acqua, pertanto per enfatizzare l'effetto ho fatto proseguire il file precedente, ma questa volta senza equalizzatore. sentiamo. Qui nel finale ho di nuovo attivato il filtro. Ho poi inserito una clip sempre 5 più 1 con il rumore di un bosco in cui si sentono anche degli uccelli. fatto la sonorizzazione di base tutta in surround ho poi inserito altre clip ma questa volta a stereo. vediamo come le ho trattate. La prima, sempre con il suono di uccelli, l'ho disposta a sinistra per simulare la provenienza degli uccelli da sinistra. la seconda presenta anch'essa un suono di uccelli, ma questa volta l'ho disposta a destra. inoltre per simulare l'effetto di lontananza come piano sonoro ho inserito un riverbero. sentite con e senza effetto. anche sulla terza clip ho lasciato un riverbero ed è sempre di suoni di uccelli. ma questa volta grazie ai keyframe ho spostato il fuoco del suono da destra a sinistra per simulare lo spostamento degli uccellini. sentiamo. lo stesso trattamento l'ho riservato a quest'altra clip con il rumore di un insetto a cui ho inserito un riverbero e ho dato l'illusione del movimento. l'ultima clip stereo è di nuovo un suono di un uccello disposto a destra posteriormente. infine ho inserito una clip surround con il suono dei passi di un uomo. ora che vi ho svelato l'intervento di ogni clip sentiamo di nuovo l'intero montaggio. l'intervento di un luogo. 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 l'intervento di un luogo.